La Raggi è stata eletta dai cittadini di Roma ed è stata eletta anche con un plebiscito perché ha avuto, non ricordo male, quasi il 70%. Io penso che le dimissioni della Raggi, certamente non le decidiamo noi, potrebbe decidere la magistratura se scoprisse qualcosa che non va, ma non sembra, ma io credo che quello che hanno deciso i cittadini di Roma vada rispettato, vada rispettato perché altrimenti questa città ogni due anni che ridevico... A meno che, Antonio però scusami...